Negli episodi precedenti, dopo aver aumentato la distanza delle natiche di Capitan H, Bear è arrivato in un villaggio pieno di mostri e ha deciso di salverlo. Ci riuscirà, eh? Scopritelo nel nuovo episodio della World of the Fire! Hola, salve a tutti, sono Bear, eccoci qui nella World of the Fire! Eeeeh, oddio, come l'ho detto brutto. Allora, eccoci qui appunto con la World of the Fallen, qui c'è appunto un Fallen, no, non si dice Fallen, ma è un semplice burrona. Che bella luna, il chiero di luna, io... Ok, basta Bear, oggi ti sei svegliato male, n'è vero? Allora, noi abbiamo queste nostre cosettine qui e dobbiamo andare a salvare il sindaco, n'è vero? Dobbiamo andare a salvare il sindaco. Yes! I have to save the sindaco's ass! Sindaco's Maior's ass! Buongiorno, disturbo? No, non disturbo a quanto pare. Oh, questo è proprio quello che mi piace! Vieni qua. Saliamo un poco un attimo. Buongiorno, disturbo? No, non disturbo mai a quanto pare. Io sono un bel bambino e non disturbante. Allora, le passi non si potete o puoi anche tenere. Un Anvil! No, ok, non credo sia possibile chiamare le cose con il proprio nome e cose simili. Allora, non vogliamo barare noi. Allora, andiamo un attimo. O forse è possibile? Non credo. Allora, oh, che begli zombie lì. Perché tutti là vicino? Belli! No! Non dovete assaltare il sindaco! No! No! Sì, è Town Hall. Sono tutti lì per assaltare il sindaco. No! 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 Ha droppato una spada d'oro. Oddio! Grazie! Dove diavolo sono adesso? Ah, nella nave! Che bello! Adesso devo rifare tuuuuutta la strada. Ciao! Allora, sì, devo rifare tutta la strada. Spero di non rincontrare quei regneci brutti e pestiferosi. E quel tizio mi aveva droppato una spada di... Di... A... Man... Nante! Ok. Allora, uh, tra poco sarà rilasciata la 1.4.6, oppure probabilmente quando avrò caricato il video sarà già stata rilasciata, dato che la rilascerà nel 20 dicembre. Ma vabbè! Ehm... C'è anche una sorpresa di Natale! Che non so cosa diavolo sia al momento. Però vabbè! Lo scopriremo! E non c'entra nulla la 1.4.6, anzi un po' così, perché hanno aggiunto appunto i fireworks Ehm... Là il nuovo... Oh, una patata! E il nuovo... Incantesimo, ovvero le spine, traducibile Tons. E quindi chissà cosa ci farà il nostro Ipixel con questa nuova roba. Allora, quel brutto cattivone mi ha preso le spalle quando io non ero pronto! Questi brutti cattivoni... Mi piace com'è arredato questo buodo. Dov'è quel brutto cattivo? È andato anche lui ad attaccare. Quei bastardo mi ha ammazzato in un colpo. Allora, eh... Muori, muori... Sì, esatto, sì, devi morire proprio tu. Allora, voglio questa spada. Ehm... 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 Perfetto. Mi piace quando mi sentono. Ooooooooh... Oh, perfetto. Bravo, vai via. Mini cosettino del demonio. E intanto non muoiono questi cosi. Vuoi morire? Dai, ti... BAM! Nel ginocchio. PAM! In testa. PAM! Nel ginocchio. PAM! Ah! In testa. Anch'io ero un avventuriero come te! Mom... Adesso non fa più ridere l'anno. Oh! What's happening here? What's happening? Wait, what's happening? An accident found a way to get our world to traveling through the nightmares. HUUUH! NOOOOO! Some of the people woke up as monsters. We are hopeless. HUUUH! Monsters! No! Don't worry. We will take care of this. Because I'm better than me to X Gaming. And kill everyone. I heard people saying the minds are infested with demons. Ah, Lucia. Lucia, where are you? Ah, hi, Lucia. Perhaps you should start with the investigator. Sure thing we will be back. Make sure... Ah, Grego. Ciao, Grego. Make sure you search the houses. You make find some equipment and maybe save some of our people. No! Allora, ehm... Questi simpatici faccioni tanto carini e coccolosi... Faccioni! Faccioni azzurro! Faccioni... Che cazzo dico... Nero, grigio! Faccioni e viola! A mia Lucia! Mua! Bella Lucia. Allora, ehm... I nostri amiconi qui ci hanno appena detto che... Eh... Per qualche sano motivo... Alcuni dei villagers si sono risvegliati. I demoni... Uh! La tengo già. Sì, la tengo già. Non mi serve. Allora, possiamo un po' di cose... Wind force, wind force... Vabbè... Uh! Run still! Sword sword! Oh, God! I want this! Uh... Rune? Allora, fa 11-18. Oh! Molto buono! Allora, tu vai via... Tu vai via... No, aspetta... No, vabbè, tu vai via... Uh... Tu vai via... Tu vai via... Tu vai via... 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 Ok... Eh, sì, direi che va bene. Allora... Ehm... Stavo dicendo... Ok, non voglio prendere i drop, quindi me ne vado per di qua... Stavo dicendo... Il simpatico... Tizio ci ha detto che... Ehm... Un po' di... Cioè... Qualche villager si è risvegliato zombie perché... Un tizio ha fatto una strana magia per trasformare gli incubi in realtà. O quindi... Il nostro compito da brave persone volonterose... È quello di aiutare questi piccoli... Tizi... Uh... Che bel foglio... È di aiutare questi piccoli tizi... A... Scoprire cosa diamine sia successo... E... Maybe you should come here later... Oh... Ok... Vengo dopo... E... Oddio... E hanno detto che... La... Una caverna è infestata di demoni... E quindi dovrei andare a vedere lì cosa diamine succede... Arriverò dopo, non mi preoccuparti... Ma probabilmente mi dimenticherò di questo qui... Allora... Se non era in questo episodio sicuro mi dimentico... Ricordatemelo... Nei... Commenti perché... Bear hanno memoria di merda... Come molti sa... Preten... Sì... Non dovrei usare tutti questi vocaboli... Scostumatilli... 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 Perché mi danno le bottle of incharting? Cosa me ne devo fare? Allora... Forse... Uh... Un belcone... Ma che bella... Uh... Che bel palazzo lì... Dopo andiamo a vedere... Però prima devo un po' cercare qualche altra cosa... Perché magari... Trovo... Oh... Ciao... Magari trovo... Qualche altra cosa di... Karate! Utile... Oppure... Trovo qualcuno da salvare... Non si sa mai... Magari trovo qualcuno che dice... Oh salve! Mi hai salvato... Il mio adorabile sedere! Prendi questo per... Come ringraziamento! Capito... Quindi... Potrei trovare qualcosa di molto utile... Allora... Ehm... Pop 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 pop... Pop pop pop... Pop 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 pop... Pop 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 pop... Allora... Uh... Qui ci sono andato... A vedere... No... Beh... Mi fai riferi più attenzione... Porca mia... No... Bello quel coso... Le spa... Oh... Villaggio... Allora... Sì... Va bene... Bers... Bers è diventato più... Idiota... Del solito... No... Non è vero... Sono sempre così idiota... Allora... Ehm... Chest... Occhi di nagno... Chest... Roba inutile... Molto utile... Ma... Inutile... Guarda il balcone... Che bei balcone... Che abbiamo qui... Allora... Ehm... Oh... Ciao piantina... Oh... Non posso salutare qualsiasi cosa incontri... Allora... Oh... La madonna... Quanta roba che c'è qui dentro... Adesso probabilmente... Tutte le casse saranno vuote... Ah no... Tu sei piena... Vieni qua con me... Tu sei vuota... Tu sei vuota... Tu sei vuota... Tu sei vuota... Allora... Oh... C'è anche pieno di sopra... C'è qualcuno... C'è qualcuno... Posso entrare... Sicuri... Non è che vi prendo... Mentre state facendo cose... Ok... Allora... Ehm... Oh... 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 Ma chi è che mette la rotta in flash... Nelle ceste... Oh... Un altro balcone... Yeah... Balconi... Amo i balconi... Ok... Adesso farò una cosa stupida... Yeah... Adesso come torno... Ah... Ok... Sì... Sono un grande Treser... Perché non lo sapesse vuol dire... Tizio che fa il parkour in modo abile... Sì... Non lo so cosa dico... Allora... Ehm... Di qua... Allora... Abbiamo visitato quel palazzo... Abbiamo visitato questo palazzo... E adesso visitiamo questo palazzo... Vero? Come si visita questo palazzo? Come si visita? Oh... Oh... Qui vicino c'è qualcuno... La mia spada di diamante... Vorrà... Controllare... O... Revisionare... La distanza delle sue enetiche... Ehm... Non facciamo questi strani rumori... C'è qualcuno... Meloni! Non credo di poter prendere i meloni... Forse sì... Meloni! No... Non posso prendere i meloni... Può far bacco... E avevo trovato i meloni... Melonis... Melonisco come rossos... Co come rossos... Co come rossos... Co come rossos... Ehi tu! Cosa stai facendo a quel muro? Lascialo stare! Non ti ha fatto nulla! Lascialo stare! Scusalo muro... A volte non si controlla... Allora... Oh! Tu cosa stai facendo lì? Mh? 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 Oh! Ma che bel... Oh! Ma che bel palazzo che abbiamo lì! Allora... Chissà dove cavolo sono queste caverne... Mh... Ho forse sbagliato a leggere... Ciao! Bello! Ma ciao! Ho forse sbagliato a leggere... Ed è qua... Uh! Rottenmash! Ed è da qualche altra parte... Beh non lo so... Allora... Mh... Intanto noi finiamo di controllare qui... Poi torniamo dai nostri... Capoccioni... O meglio... Facciali preciosi! E... Comperiamo qualcosa perché... Notus Madness... Eh già la tengo... Non... Non mi serve... Però la prendo giusto perché è figa... Ehm... Vediamo qua... C'è qualche altra cosa... Qui ho già controllato... Qui si scende... Uh! Qui si sale di nuovo... Aspetta... Ma sono appena... Ok... Ehm... Scendi 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 scendi... Ehm... Hypixel non si smentisce mai... No... Non è che fa... Tipo... Una mappa bella e cento brutta... No... Tutte stupende... È molto abile... Il ragazzo... Oh! 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 Che cosa abbiamo trovato qui? Cosa sarà mai? Oddio! Chissà quanto tempo ci metterò a risalire... Che sacca cos'è? Oddio! Cos'è? Non lo so! Cos'è? Oddio! Forse è qui che si va alle caverne... Mmm... In tal caso dovrò risalire... Uh! Uh! Oh! Oh! Ma che bella dimora! Uh! Uh! Si sale... Mmm... Vediamo un po' se c'è qualcosa in queste fornaci... Uh! Boom 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 boom... Ho detto... Boom 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 boom... Ber il canzoniere Allora Qui non c'è niente ovviamente Non poteva essere altrimenti E via il tuff Secondo me questa cosa è stata fatta Se qualcuno cade può facilmente risalire Probabilmente è stata fatta per Scendi Scendi Ok Probabilmente è stata fatta per quella Infatti mi incominciavo già a chiedere E se cado? Devo rilogare la mappa O forse quest'altro c'è qualcosa No Non c'è nulla Ok Piccola perdita di tempo Forse c'è qualcosa Nel c'è qualcosa Nel c'è qualcosa E casca Cassate Le cassate Ovviamente Chi non conosce le famose cassate di Pimberlandia Oddio Perché non a volte Dico cose che non esistono Mi piace inventare nomi E' vero E' molto carino inventare nomi E' una pratica buddista Creata nel 1902 Da Mahal Maha Che crea appunto la pratica di inventare nomi falsi Per Il dilettamentazionamente abile dell'uomo No Non lo so neanche io cosa sto dicendo Se è questo che ti stai chiedendo ascoltatore Oh Santo Dio Stavo parlando Stavo filosofando E che diamine Io filosofo E Che diamine Allora Oh No Questi sono dischi Non posso suonare Oh Oh Questo The Helm of Command Ok già lo tengo Non mi serve C'erano delle scale Sì c'erano delle scale Mi piace C'è come Mi piace Mi piace come Hypixel decora Le proprie dimore È molto abile Nei decori È molto abile Sarò una persona molto decorosa Allora La 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 Dove devo andare Questo Villaggio è fottutamente enorme Tu devi morire Sotto i colpi della mia spada Della distruzione Antonomasia Ma ciao Ah Pensavo di aver visto il mob Invece era del fuoco Ciao Anvil Ciao Anvil Ciao Anvil Ciao Anvil Adesso vediamo un po' Perché nelle fornaci Non mette mai nulla Voglio la roba Nascosta nelle fornaci Mi piace la roba Nascosta nelle fornaci Uh 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 Basemans Oh Ciao Bello Non andare sotto terra Quando ti sto parlando Ok mi sa che questa spada Non dovrei usarla Contro questi Baldracchi Quindi mi sa che La conserverò Perché è la rune So steal Quindi non dovrebbe essere Usata contro questi pezzetti Allora Uh 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 Sembra una Cigna Uh 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 Ok basta Beh Allora Tieni prendi questi Sono carini Te congedo Uh 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 Basta Oddio Oddio Cos'è questa roba gialla Ah forse è oro Oh Quanta robaccia Tanta robaccia Per me Come sono belli I lapislazzumi In questa cosa Oh Scintillo Allora Uh 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 deber Va bene Allora Sì Questo episodio Sto solo controllando Questo cavolo Di villaggio Allora Quella Probabilmente È la CAVERNA Misteriosa Dove dovranno andare Ma prima devo finire di vedere un po' qui dentro Cosa c'è Salve signor casa Dove è il suo Stavo per dire una brutta parola Allora non si dicono le brutte parole Ci sono dei bambini In ascolto Che cosa è questo Ci sono dei bambini in ascolto Allora Ho detto Sali sali Allora vediamo un po' Cesti inutili quanto vi odio Cesti inutili della malora Fornaci Ok voglio Vedere se posso Riminare le cose come voglio io Tanto tutte queste bottle of and short Che non so cosa diamine servino Però vabbè Meglio recuperare tutto 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 anche se non si sa Il suo uso Oh Lì c'è un'altra Strana cesta Premesso Buongiorno Vorrei ordinare una stanza Ordinare Allora vediamo un po' Ok Vediamo un po' con qui sotto Oh la madonnina Cosa diavolo ci fate voi qui Mentre io sto camminando Eh Oddio quante ceste Di Betlemme Allora apriti Ho detto Apriti No Non si vuole aprire Oh Un elmo Di diamante Non è vero Sei un elmo di diamante Oh Sì Meglio un elmo di diamante Allora Tu come ti apri No Oh Stanza di oro e diamante Come si apro questa roba Probabilmente Ah Forse questa è una bang Probabilmente Zero bang E qui c'è la cosa È una banca a quanto pare E tu non sei Uh che bei quadri E tu non sei il benvenuto Perché sono tutte chiute Queste diamine di porte Diamine di porte Allora Si credo sia proprio una banca Uh Un creeper Creeper Allora Sì Sono da Prendere E incenerire Però va bene Allora Uh Uh C'è qualcosa nascosto Allora Vediamo un po' Questa puntata è stata solo di Cerca 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 E non Va bene Non voglio solo Cerca 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 Uh picconeare La restava Era per completare Cerca 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 Non so se si era Capito Non va bene Ah Santo piripillo Piripillo Santo Piripallo Piripalle Piripalle No Allora Mi sto Arrabbiando Sono stufo di andare a cercare le cose Sono stufo Basta Ah infatti abbiamo finito E Finalmente Cazzo Mi stavo incominciando A Come posso dire Percutere I testicoli Allora Oh qui c'è un piano di sopra Porca miseria Perché c'è un piano di sopra Perché Allora Mi piace Cercare Ma non troppo Deve esserci Azione Ricerca Azione E poi ricerca Non solo Ricerca Oh my god Il set del re Che fa schifo Però c'è il set del re Fa cagare Le amaramente Però C'è il set del re Allora Quando sarò re Sopro Dove tornare Allora Signor tizio Vediamo un po' Tu cosa puoi commerciarmi Uh 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 E che cosa è questo Birra Birra Mm Ok Tu cosa puoi commerciarmi Mordech Vassab Via Nello shadow set Oh my god Ho solo due pepitte Però Red slav Demonio Demon skin Ah pelle di demone Warlord Legla Blitz Iii Night saber Night bringer Non night Ah Non ci sono le spade laser Purtroppo Venom's hawk E questa roba qua Va bene Tu invece Cos'hai di dermi Potion of health Potion of health Potion of regeneration Potion of Uh la pozione Della madness in andia Ovvero Della Pazzia Visione notturna Forza e velocità Pozione Offanger Strength Has the speed E basta Va bene Le cose sono molto interessanti Ma or dunque ciò Non mi interessano Perché ci sono Puchi dietro Allora Possiamo tutte le altre Pozioni Perché Al momento Non mi servono Poi in caso Posso sempre Tornare Possiamo anche la cosa Qui pure questa No tu vieni con me Il cibo Così me lo porto Oddio Sto morendo di fame Bersi sta dirigendovi Verso quella strana miniera Ma cosa Troverai al suo interno Scopritelo Nel prossimo episodio Della WARS OF THE FULE